oggi vi presento come tutorial una click clack piccolissima con questi cristalli ho scelto la versione fucsia ma ci sono anche altri altri colori io non ho scelto un cordino ma del cotone ma voi potete utilizzare anche un cordino fino che si lavora con un 33 e mezzo di uncinetto potete potete per fare fare la vostra prova ma sicuramente va benissimo io ho preferito morbida l'ho riempita quando viene diciamo io l'ho riempita con un po di un pochino di dana dentro ma ovviamente risulta risulta molto molto piatta ma se la usate come decorazione con qui potete aggiungere una catenella attaccarla anche alla borsa come in decorazione vi consiglio sempre di riempirla un pochino un pochino di cotone allora potete anche poterà foderarla dentro io ho fatto una versione molto molto semplice poi futuro se volete possiamo farla una con con il cordino dicevo che potete io l'ho fatta realizzata con il cordino ma con il cotone ma voi potete realizzarla anche con con il cordino allora adesso passiamo subito ai materiali e poi al tutorial il filato che ho scelto il fiocco è un cotone ma potete utilizzare anche un cordino più fino per questo progetto è il color beige sono 20 125 metri sono 50 grammi consiglio un uncinetto dal due e mezzo tre e i ferri tre e mezzo è il 100 per cento lato che ho scelte questa con i cristalli color fucsia potete scegliere anche in altri colori ci sono insomma dal celeste il verde il giallo sono anche altri colori alla misura di otto centimetri e mezzo per 7 me lo faccio vedere aperta uncinetto tre e mezzo e anche un arco da cucire e un filo nylon potete decidere di prendere anche un numero dal numero 12 o numero 16 ma anche un 20 iniziamo con il cerchio magico prendiamo il filo lo rotoliamo su due dita lo blocchiamo prendiamo un uncinetto e lo facciamo passare il filo e realizziamo una catenella in questo modo ora ne realizziamo altre due in totale sono tre catenelle prendo il filo realizzo tutte maglie alte passando dentro il cerchio e in totale devono essere 11 con le 3 catenelle che contano come punto sono sono 12 co realizzo tutte maglie alte quando ho finito di realizzare 12 maglie alte che sono 11 maglie alte e le 3 catenelle che contano come punto in totale 12 vado a tirare il filo vado a chiudere con una maglia bassissima nella catenella e tiro bene il filo ora realizzo una catenella e nello stesso punto cioè dove ci sono le 3 catenelle vado a realizzare due maglie basse nello stesso punto prima e seconda ora vado sul punto successivo che questa è la prima maglia alta che abbiamo realizzato togliendo le 3 catenelle tanto per capirci la prima maglia alta vado a realizzare 5 maglie alte sullo stesso punto non chiuse le chiudo insieme per realizzare una nocciolina prendo il filo entro sul punto e la lascia in sospeso la prima maglia la seconda maglia alta in sospeso la terza la quarta e la quinta prendo il filo e vado a chiudere tutte le asoline e realizza una catenella vado sul punto successivo questo è il primo e questo è il successivo realizzo 2 maglie basse la prima e la seconda nel punto successivo di nuovo facciamo la nocciolina cui cinque maglie alte che lascia il sospeso per poter poi chiudere una nocciolina se la seconda la terza la quarta la quinta prendo il film vado a chiudere tutte le asoline una catenella vado sul punto successivo 2 maglie basse tiro il filo bene prima e seconda ora mi avvicino un po che si vede meglio prendo il filo vado sul punto successivo e realizza sempre la nocciolina prima seconda terza maglia quarta quinta prendo il filo e vado a chiudere anche con una catenella punto successivo 2 maglie basse ti roba nel filo la prima e la seconda sempre sullo stesso punto adesso proseguo fino a concludere il giro adesso che ho concluso il giro abbiamo 1 2 3 4 5 6 noccioline dal dritto questo è il motivo vado a realizzare una maglia bassissima proprio sulla prima moglie che abbiamo realizzato la maglia con la maglia bassa queste sono 1 e 2 entro nella prima in realizza una maglia bassissima e chiudo ora mi alzo di due catenelle 1 e 2 siamo ora al terzo giro ora devo entrare adesso dobbiamo realizzare due maglie alte ma devo entrare vi faccio vedere giro il lavoro qui sono le due maglie basse se mi metto più vicino si vede meglio due maglie basse noi dobbiamo lavorare proprio quella sottostante dove abbiamo realizzato le maglie basse per cui prendo il filo entra proprio nel buchino sotto queste sono 1 e 2 le maglie basse entro proprio sotto e realizzo due maglie alte la prima chiudo prendo il filo e la seconda entro proprio sulla sulla stessa e sono delle maglie allungate vedete proprio in questo senso che vanno a lavorare proprio dove abbiamo lavorato le maglie basse ora abbiamo la nocciolina la nocciolina non dobbiamo tenere presente questa ma dove abbiamo fatto la catenella che a questo punto qui realizzo due maglie alte entra proprio sul punto e realizzo due maglie alte la prima e la seconda adesso prendo il filo entro di nuovo qui sono le maglie basse vado proprio sotto dove abbiamo lavorato le maglie basse ho fatto proprio sotto il lavoro la prima maglia alta e la seconda e di nuovo vado sulla nocciolina non lavoro questa laterale perché quella non conta ma dove ho realizzato la catenella che di chiusura anche questa e vado a lavorare sempre due maglie alte prima e seconda per con il giro il lavoro per farvelo vedere continuo e proseguo a lavorare le due con gli aumenti due maglie alte proprio dentro sotto al punto delle maglie maglie basse e poi lavoro le maglie alte dove ci sono dove c'è la nocciolina proseguo fino alla chiusura adesso che ho concluso il giro vado a chiudere proprio nella prima maglia che abbiamo lavorato possiamo mettere anche un marca punti se volete e chiudo con una maglia bassissima ora lavoro una maglia bassa proprio questa parte qui per cui realizzo prima una catenella e nel lavoro questa sottostante lavoro una maglia bassa e di nuovo una maglia bassa sempre sullo stesso punto sul punto successivo che è questo vado a lavorare la nocciolina io vi faccio delle nocciolina davanti eccole ovviamente si lavorano e li troviamo un rovescio adesso vado a lavorare la nocciolina vado sul punto successivo lavoro la prima seconda seconda terza quarta e quinta faccio passaggio tutte le asoline e una catenella punto successivo che è questo lavoro 2 maglie basse punto successivo di nuovo nocciolina che non facciamo altro che fare la stessa sequenza su ogni punto sono 4 ma una e la quinta chiudo e catenella punto successivo 2 maglie basse e 2 allora proseguo anche in questo giro lavorando un punto 2 maglie basse e sul punto successivo una nocciolina alterno fino a completare tutto il giro quando avete concluso il giro dobbiamo chiudere proprio sulla prima maglia sulla prima maglia bassa cambiamo a realizzarlo una maglia bassissima in questo modo dobbiamo trovare dobbiamo trovare dobbiamo aver realizzato 12 noccioline uno due tre quattro cinque 6 7 8 9 10 11 e 12 noccioline quinto giro abbiamo chiuso con una maglia bassissima realizziamo due catenelle i giri si ripetono sempre sono sempre gli stessi in questo caso dobbiamo ripetere come il giro che abbiamo fatto il giro numero 3 ripetiamo sempre la stessa cosa abbiamo fatto le due catenelle noi andiamo a lavorare qui abbiamo le maglie basse così non si vede eccole qui giro e dobbiamo andare proprio sotto fare con le maglie più lunghe allora vado a prendere il filo entro proprio sotto alle maglie basse alla base realizzo due maglie alte in questo modo ora vado a realizzare due maglie alte sulla nocciolina non in questa laterale ma proprio alla catenella che abbiamo realizzato quando poi abbiamo chiuso la nocciolina 2 maglie alte sempre sullo stesso punto perché sono aumenti prendo il filo entro sotto queste sono le due maglie basse entro sotto due maglie alte vado sulla nocciolina sulla catenella della nocciolina quella capiamo realizzato di chiusura maglia alta e seconda maglia alta per cui in questo giro dobbiamo fare soltanto gli aumenti vado a concludere il giro sempre con questa sequenza di punti quando ho terminato tutto il giro vado a chiudere sempre con una maglia bassissima e abbiamo concluso giro per farvi vedere allora adesso che abbiamo terminato andiamo a realizzare un giro di maglie basse per fare un po di rinforzo in maniera che quando andiamo a cucire alla click clac non abbiamo un piccolo bordino allora adesso giro adesso il lavoro mi alzo di una catenella e lavoro sotto al punto un aumento 2 maglie alte punto successivo una maglia sempre maglie basse per cui un aumento maglie basse e una maglia bassa per cui realizzo tutto il giro con un aumento e una maglia bassa un aumento e una maglia bassa una volta che abbiamo realizzato due dischi non taglio il filo al secondo e vado proprio a cucire con l'uncinetto prendo tutte e due adesso qui abbiamo la solina vado su un punto qualsiasi e non ha importanza prendo proprio tutto il punto di sere quando si lavora con l'uncinetto si prende metà costina e metà costina ma in questo caso noi dobbiamo renderlo molto molto robusto per cui prendiamo tutte e due le costine e vado a lavorare passo meglio il filo così lo faccio vedere ecco qui passo dall'altra parte il filo vado a prendere il filo e adesso lo passo passo a punto bassissimo qui prendo tutte le costine sia del primo che del secondo pannello e chiudo con un punto bassissimo proseguo fino a arrivare a una misura della nostra circonferenza della clic clac adesso che ho finito di cucire basta prendere la misura prendiamo la clic clac e andiamo a prendere la misura fino a dove dobbiamo uscire facile anche perché poi quando apriamo deve essere la circonferenza della clic clac vedete che poi la dobbiamo inserire dentro il cucire adesso vado a preparare un ago normale perché comunque è molto piccola la nostra clic clac e come filo ho usato un filo normalissimo nylon da 16 allora l'ho messo doppio allora man mano cercato di inserire bene bene la parte che devo andare a cucire ho fermato il filo però purtroppo la c'è purtroppo diciamo che il filato abbastanza fino e la clic clac è molto largo il bordo per cui uscire ancora dobbiamo tenere man mano che andiamo a cucire per cui la parte che ci interessa da uscire è questa vedete io ho passato con il filo ma devo cercare di ripassare su ogni un buchetto ecco qui cercando in questo modo certo con il filo nylon si vede ben poco però passo sempre due volte tengo ben fermo non serve un magone gigante perché i fori sono abbastanza larghi e di inserire bene bene il cotone nelle fessure proseguo fino arrivare alla parte opposta e fissare bene il filo io lo passo due volte direttamente tenendolo bello fermo perché scivola ecco qui ecco qui ho terminato come avete visto è facile da realizzare io adesso ho messo un pochino un pochino di lana dentro per renderla un pochino più gonfia vedete ovviamente senza nulla dentro rimane rimane piatta però queste sono belle se voi non ci mettete niente dentro e le volete portare come decorazione qui con una piccola catenella attaccata che ne so alla borsa potete insomma riempirla anche con un po un pochino di cotone allora questa è la mia versione nocciolina della clic clac piccolissima allora spero che il tutorial vi sia piaciuto ci possiamo vedere sempre il lunedì e il venerdì per nuovi tutorial e seguitemi anche su instagram se il tutorial vi è piaciuto un bacione ciao a tutte